Ciao ragazze, un altro must have di quest'ottuno e inverno sono i capi in pelle, sia gonna pantaloni, giacchetti, cappotti, anche i vestiti li fanno tantissimo, quindi vanno molto di moda, però dobbiamo un po' sdramatizzare perché la gonna di pelle con il giacchetto di pelle molto rock e un po' anche anni 80 e non va più questo abbinamento, quindi io in questo caso l'ho abbinato con un semplice maglione fatto tipo uncinetto e ho indossato una collana per dargli un tocco un po' più interessante. Questa gonna non è molto corta anche perché dobbiamo stare attenti alla lunghezza perché la gonna di pelle è molto provocante se è molto corta, invece ha una lunghezza giusta, ci può stare anche per noi donne over 40. Allora ho abbinato un maglioncino semplice, per non dargli questo effetto così che non mi piaceva ho preso un angoletto e lo indosso, lo infilo dentro nella gonna e quindi gli dà un po' di leggermente negligente, diciamo così. Allora evitate di mettere sopra come ho detto prima il giacchetto di pelle, quando mettete un capo di pelle che sia solo uno almeno che non è un vestito perché adesso ne fanno pure i vestiti lunghi e molto belli anche e quindi secondo me abbinato un capotto semplice nero gli leva quel tocco di rock e lo lascia un po' più elegante. Quindi un capotto nero che copre totalmente la gonna, è una tracolla, è un abbigliamento, questo è un outfit che puoi usare sia casual per giorno, per tutti i giorni per le cose dove devi andare e devi fare anche al lavoro perché no, sia se devi fare un aperitivo devi andare a cena, stai sempre carina. Spero che vi piace questo mio outfit, mettetemi un like se è così, vi mando un bacio al prossimo video, ciao ragazze! Grazie! Grazie!